dai canetriarista brava su ciao Andre brava brava eh ma perché non vedeva qua quindi non sapeva se fidarsi o no giustamente ah beh quello tutti tutti no scendere meglio che bravo brava mia bravissima altro che classico classico vedi com'è brava a fare su lì ma lei è andata su lì eh perché non vedeva dietro e non ci fidava giusta